Scusa Fabio, ma è vero che hai fatto sto e-commerce da, non so, 400 mila euro all'anno, con prodotti tipici, alimentari, no? Sì, sì, ma guarda che è vero, se vuoi puoi andare a vedere sulla pagina Facebook di Montemagno, abbiamo fatto un'intervista e è iniziato un caso studio. Ascolta, ma qualcosa le insegniamo anche a loro o ci teniamo le cose migliori per noi? Vabbè, adesso vediamo, dai. Ciao ragazzi e benvenuti, ovviamente stiamo scherzando, vi insegneremo non qualcosa ma un qualcosone, quindi poi lo scoprirete tutto. Ma attenzione, la cosa più importante è che in questo video andremo a svelarvi finalmente la novità su cui ormai stiamo lavorando da mesi, insieme a Fabio che innanzitutto è un imprenditore dell'online e ha costruito un progetto che si chiama Bottega Sicana e che metterà a vostra disposizione tutta l'esperienza e grazie anche al metodo di scuola e-commerce andremo insieme a creare un percorso che veramente crea risultati nell'ambito dell'online. Ma prima di partire e darvi i risultati che potrete ottenere grazie a questo percorso, come è strutturato, per chi è e per chi non è, le sorprese e i colpi di scena che ci saranno, i contenuti del webinar che faremo il 18 ore 21, unica data live del 2021 senza registrazioni, voglio fare una breve parentesi e raccontarvi come è nato questo progetto e qual è la filosofia che sta dietro a questo progetto. Vedete, voi come sapete la nostra formazione si distingue per una questione molto pratica, quindi qualsiasi cosa noi andremo ad insegnare deve per forza arrivare da un'esperienza pratica, da risultati concreti che noi mettiamo sul tavolo e passiamo poi alle persone che vogliono prendere questa esperienza. Infatti siamo partiti così con Amazon, prima come seller e poi abbiamo fatto quello che è stato il percorso più completo e lo è tutt'oggi per la venta su Amazon in Italia. E ad un certo punto abbiamo detto, beh ma forse Amazon non è sufficiente, forse dovremo aprire anche dei canali verso il mondo e-commerce, perché molte persone vogliono avere qualcosa di proprio, qualcosa dove hanno pieno controllo, qualcosa dove si sentono un po' padroni a casa propria, oppure anche qualcosa da abbinare insieme alla potenzialità di Amazon. E lì avevamo fatto i primi tentativi qualche anno fa con dei docenti, ma purtroppo qualcosa non è sempre andato benissimo. In alcuni casi magari c'era una grande preparazione tecnica, ma mancava un po' quel lato di passione verso la formazione. Nell'altro caso magari c'era un po' quella scintilla, ma mancava un pochino di lato tecnico, pratico. E così abbiamo finalmente trovato quello che è il docente che cercavamo per questo tipo di progetto. Un docente che sia un imprenditore, che abbia passione per la formazione e che possa portare veramente le persone a dei risultati concreti. E noi abbiamo incontrato Fabio, ci siamo innamorati del suo progetto che è Bottega Sicana e dei risultati che ha avuto perché ha portato un e-commerce da zero a fatturare centinaia di miliardi di euro negli anni e abbiamo fatto una collaborazione, una partnership per questo progetto. Quindi la cosa importante da capire, se siete già corsisti della nostra vecchia edizione Shopify o se ci avete già visto creare qualcosa su Shopify, questa sarà una cosa completamente nuova. Abbiamo distrutto tutto quello che c'era prima e abbiamo creato un qualcosa completamente da zero. Ma Fabio quali sono i risultati che vogliamo dare alle persone con questo percorso? Allora sicuramente l'obiettivo è quello di aiutare le persone a guidare passo passo nel suo progetto e-commerce che magari è ancora in testa o magari già ha creato qualcosa con scarsi risultati e la nostra idea è proprio quello di fare in modo che da zero praticamente si possa ottenere un risultato per cui si è deciso di lavorare e di creare. Infatti per ogni negozio o per ogni persona insomma che vuole entrare in questo mondo ha delle esigenze diverse. Quello che noi abbiamo creato in tutto questo percorso è di cercare di colmare ogni esigenza perché ovviamente in base dal punto in cui una persona parte ovviamente le esigenze cambiano. Quindi abbiamo cercato di creare un percorso, in realtà l'abbiamo creato e è costata tanta fatica e non solo. Abbiamo coinvolto altri docenti esperti in materie specifiche come per esempio la SEO, Facebook Ads, Google Ads o comunque altri docenti saranno sette in tutto e in pratica quello che ti permetterà di fare è avere esperienza vera, pura, perché non parliamo di persone che hanno studiato le cose ma sono state selezionate come del resto a scuola e-commerce ha selezionato me perché fanno le cose e non perché le hanno sentite dire è questo e che fa la differenza. A volte pensare di saper fare quattro click per realizzare qualcosa sembra qualcosa di difficile, in realtà è solo mettere le mani in una tastiera, sapendo dove andare appunto a cliccare e ottieni qualcosa. Sicuramente questo c'è all'intero del corso e c'è anche l'esperienza di chi ha sbagliato, di chi ha fatto tanti errori e di chi ha lavorato ore e ore anche 12, 13, 14 ore al giorno per poter raggiungere questi risultati. Ma voglio andare un po' più nel profondo, se me lo permetti Vadim, e parlare un po' di più di cosa c'è all'interno di questo percorso. In pratica, proprio in ottica di quello che ho appena detto, l'abbiamo diviso in dei moduli specifici dove c'è, a parte l'introduzione ovviamente dove ci sono delle informazioni generali sul mondo e-commerce e su quali sono le informazioni di base che sono necessarie conoscere. Parliamo di un modulo di progettazione dove hai la possibilità di capire cosa devi fare prima di fare il primo passo verso l'e-commerce, perché è necessario andare a programmare e gestire tutte le attività perché altrimenti ti ritroverai a fare delle azioni senza sapere dove andare, senza avere le idee chiare e questo ovviamente ti creerà un forte blocco e soprattutto grande frustrazione. Quindi se già sei da prima come devi progettare a quel punto, quando passerà alla fase successiva e quindi parliamo di realizzazione, avrai le idee chiare su quali saranno i costi, su quale sono il team che è coinvolto, se insomma vuoi partire da solo, se vuoi farti diciamo aiutare da qualcuno e tutti gli aspetti che ti permetteranno di avere la testa serena e focalizzarti sulla creazione del tuo e-commerce. E lì, in questo modulo, parleremo proprio click dopo click e ti faremo vedere come realizzare il tuo e-commerce. Quindi non avrai la necessità di qualcuno, per esempio dei tecnici che ti devono fare delle attività, magari task vengono spostati nel tempo, magari ci sono degli intoppi e questo crea grandissima frustrazione. Te lo dico perché prima di realizzare il mio progetto con Shopify ho tentato di capire come il mondo e-commerce, come gestirlo, ho avuto delle forti difficoltà. Siccome noi come imprenditore abbiamo deciso di avere un controllo del business, abbiamo realizzato, e questo diciamo si riallaccia al fatto al discorso del fare, abbiamo realizzato tutto da zero internamente, quindi sappiamo qualsiasi cosa succeda, sappiamo come andare a intervenire. Adesso ci siamo anche, diciamo, a varsi di collaboratori, ma nel momento in cui uno di questi collaboratori per qualche motivo dovesse, diciamo, avere dei problemi, arrivo io o qualcuno del nostro team e può gestire la cosa. Quindi per tornare al discorso, in questo modulo parleremo esattamente di quali sono tutte le attività da andare a completare e realizzare. Una volta che hai realizzato il tuo e-commerce in un modo semplice e non è necessario che tu sia un nerd, un esperto, un programmatore, a quel punto avrai tutti gli strumenti necessari per lanciare e promuovere il tuo e-commerce, perché sono attività sequenziali. A volte potrai vedere, nel momento in cui vedrai i video, non sono per dire esattamente impostati come una scaletta precisa, perché fare un business non è così. Fare un business significa ragionare, iniziare delle cose, poi fermarsi, pensare e gestire le attività. Quello che abbiamo cercato di fare è metterli in ordine, ovviamente poi li vedrai e farai tu le tue valutazioni su come intervenire e quindi crescere. Quindi sulla promozione ci saranno tantissimi esperti che ti aiuteranno passo dopo passo, anche in questo caso, a capire come tu autonomamente potrai fare due cose. O imparare tu direttamente e quindi capire come fare da solo tutte le attività, oppure avere le basi che poi ti permetteranno eventualmente di delegare, ma con condizione di causa, perché un altro errore assolutamente da non fare è quello di cercare di far fare qualcosa a qualcun altro senza sapere che cosa, perché questo ti metterà totalmente fuori giochi, ma sicuramente ci sarà occasione di parlarne e scoprirai molti concetti all'interno del videocorso. Assolutamente, quindi come hai capito sicuramente è un percorso pratico, è un percorso che ti guiderà per mano dalla A alla Z e attenzione, è una cosa che vogliamo sottolineare e la differenza enorme tra quello che puoi trovare gratuitamente online, che magari ti permettono di costruire anche un e-commerce in Shopify in 30 minuti, e da quello che faremo noi. A noi non interessa costruire un e-commerce in Shopify in 30 minuti, a noi interessa portare risultati, portare fatturati da centinaia di migliaia di euro con utile, ed è quello che noi andremo ad insegnarti all'interno di questo percorso. E per chiarire questo punto andiamo a vedere meglio a chi si rivolge esattamente questo percorso. Quindi stiamo parlando alle aziende e imprenditori che hanno già dei prodotti ma vogliono portarli online, anche da zero, anche se non l'hanno mai fatto prima. Quindi potrai formarti tu, se sei un imprenditore, potrai formare le tue persone, i tuoi collaboratori, i tuoi dipendenti in modo da portare all'interno dell'azienda, le competenze. Oppure se hai già iniziato un percorso e-commerce ma non è andata esattamente come ti aspettavi, andremo a capire dove sono gli intoppi e come rovesciare la situazione per far scoppiare veramente in modo positivo il tuo fatturato. Ma attenzione, se anche sei un aspirante imprenditore e non hai la minima idea di come iniziare, da quale nicchia, quale prodotto, vedrai i passaggi e le analisi che noi facciamo per trovare nicchie, prodotti profitevoli e accompagnarti esattamente anche dal punto zero al punto in cui fatturi centinaia di miliardi di euro di fatturato. Oppure se sei magari un professionista che vuole lavorare nel mondo dell'e-commerce come e-commerce manager o come e-commerce specialist e così via, anche questo farà per te, perché all'interno ci daremo tutti gli strumenti pratici per poter poi fare delle consulenze alle aziende e magari aiutarle a crescere. Ma attenzione, perché ci sono un paio di categorie di persone per cui questo percorso non fa assolutamente e prima di tutto sono le persone che cercano i soldi facili. Qua non parliamo di soldi facili, qua parliamo di cose concrete e pratiche, ma dove bisogna impegnarsi, dove bisogna avere costanza, dove bisogna avere pazienza perché magari all'inizio non sarà tutto rose e fiori e dovrai anche aspettare un pochino per avere dei risultati concreti. Ma con la differenza che qua non vogliamo venderti illusioni, Lamborghini il giorno dopo eccetera, ma vogliamo aiutarti a costruire un business solido negli anni che potrà fare la differenza nella tua vita, nella vita della tua famiglia e potrà aiutarti a raggiungerti i tuoi sogni. È quello che noi vogliamo fare. E la seconda categoria di persone per cui probabilmente questo percorso non fa, sono persone che fatturano già milioni di euro con l'e-commerce. Noi non siamo qua per dirti che fatturiamo 10 milioni di euro. No, noi vogliamo accompagnarti da zero magari ai tuoi primi 500 mila al tuo primo milione di euro sull'e-commerce. Se stai fatturando già diversi milioni ovviamente magari a te serve qualcos'altro e non siamo magari noi le persone giuste per accompagnarti in questo percorso. Detto questo il 18 novembre alle ore 21 finalmente apriremo le danze. Apriremo le danze con un webinar fantastico live che questa volta faremo io insieme a Fabio, quindi ci saremo entrambi all'interno di questo webinar e l'abbiamo strutturato per darti dei passi pratici da seguire anche se poi magari non prenderà il percorso completo ma potrai già partire e fare qualcosa di concreto anche semplicemente guardando il webinar gratuito. Per cui Fabio com'è che abbiamo progettato questo webinar per aiutare le persone a portarsi già subito a casa qualcosa? Allora sicuramente anche all'interno del webinar diamo dei contenuti molto interessanti che potrai sfruttare fin da subito. Come avrai notato ci sono siamo un fiume in piena vogliamo dare perché comunque è bello condividere la nostra esperienza e i risultati. Vadim ha dovuto interrompermi perché altrimenti sarei stato qui ore a parlare e a discutere perché è un argomento che mi piace dove ho sofferto ho avuto difficoltà ma nel momento in cui ho imparato sicuramente ho lo spirito abbiamo lo spirito di aiutare gli altri. Loro dicono di avermi selezionato per alcuni motivi cioè il fatto che io abbia fatto delle cose ma anch'io diciamo ho deciso di accettare questa cosa per la loro serietà e tutto quello comunque che è la loro reputazione quindi per questo colpo l'occasione di ringraziarli anche qui. Quindi detto questo noi nel webinar daremo informazioni che tu puoi sfruttare direttamente e alla fine appunto di queste due ore e due ore e mezza insomma della durata del webinar già potrai portare tanto valore a casa e in più avrai comunque saprai perché già l'ha detto Vadim perché siamo noi le persone giuste per aiutarti a fare questo e quindi conoscerai nel dettaglio i nostri risultati che abbiamo ottenuto. Assolutamente per cui come vedi non mancheranno anche delle sorprese delle novità perché tra l'altro questo è un percorso completamente nuovo. Noi avevamo una vecchia versione del percorso Shopify ma che abbiamo demolito di tutto perché non ci piaceva non eravamo soddisfatti perché tutto quello che troverai sarà un percorso nuovo. Troverai ovviamente solo riservata per novembre un'offerta inedita speciale che poi non ripeteremo mai più quindi anche questo è un altro motivo per partecipare assolutamente al webinar del 18 novembre ore 21 e poi ci saranno dei bonus, dei bonus esclusivi, delle sorprese. Perché li facciamo? Perché noi vogliamo superare sempre le aspettative. Riceverai tanto quel webinar? Sì. Tanto quel percorso completo? Sì. Vogliamo farti ricevere ancora di più e avrai dei bonus esclusivi che saranno presenti solo nel webinar del 18 novembre. Per cui cos'è che ti resta da fare? Ti resta da fare avere una mente aperta, arrivare lì con una fame e con una curiosità di imparare, di conoscere, di ascoltare le persone che hanno ottenuto risultati e di valutare se è una cosa che può fare per te e se può veramente darti un valore aggiunto. E un altro motivo per iscriversi se non l'hai ancora fatto a questo webinar è che siamo nel momento storico più florido per l'e-commerce. Perché Fabio ha iniziato qualche anno fa, ma se gli chiediamo quando era più facile qualche anno fa o adesso risponderà sicuramente adesso. Per cui se aspettiamo che passano gli anni l'opportunità dell'e-commerce sicuramente ci sarà ancora ma forse le marginalità non saranno più così alte, forse non c'erano così tanti prodotti da scegliere oppure altre occasioni. Per cui oggi adesso è il momento storico per fare questo passo e cominciare ad approfondire questo argomento. Noi non vediamo l'ora di vederti dall'altra parte, di condividere tutto questo bellissimo progetto con te. Ti salutiamo e ci vediamo presto. Ciao! A presto!